continua a gonfie vele quella che sembrerebbe essere la storia d'amore dell'anno fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, infatti, nonostante stiano attentissimi a non farsi beccare, qualche giorno fa hanno fallito i paparazzi del settimanale chi li hanno sgamati. In esclusiva sul prossimo numero di chi, in edicola da domani mercoledì 24 agosto, si vedono le immagini di Francesco Totti che va a trovare la sua nuova fiamma Noemi Bocchi in vacanza al Circeo, dopo giorni di appostamenti e false piste. Le fotografie mostrano l'ex capitano della Roma il 19 agosto a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un amico, sono le 22.30, ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata da Noemi Bocchi. Il punto, come si vede dalle immagini, è lo stesso in cui Noemi, qualche giorno prima, aveva parcheggiato. Francesco Totti, ecco perché non può farsi vedere con Noemi Bocchi. Secondo varie ricostruzioni, Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero insieme da circa un anno, ma da quando la notizia è trapelata hanno sempre evitato di farsi vedere insieme in luoghi mondani. A spiegare perché, sempre il settimanale chi. È cambiato qualcosa da quando la loro storia è diventata pubblica e da quando Totti si è separato da Ilari? Noe sì. No, Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. Sì, in termini pratici e strategici. Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilari, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un'altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi.